eccoci qua benvenuti su my football jersey oggi vedremo la maglia del liverpool la maglia di casa per la stagione 22 e 23 nella versione player quella indossata dai calciatori la maglia è completamente rossa gli unici elementi di contrasto sono lo swoosh bianco di nike lo stema del liverpool e gli sponsor obbligatori della maglia che saranno riportati dall'attuale campagna del liverpool il collo è a giracollo con bordatura in tono alla maglia sullo retro del collo vi ha una parte in rosso più scuro in corrispondenza dell'abituale logo è realizzata in tessuto traspirante che mantiene la pelle asciutta la maglia authentic è la versione indossata in campo dalla squadra la vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta kaboom questa maglia è molto bella nella mia classifica prende 4 stelle è una prima maglia e sapete che io non adoro non vado matto per le prime maglie ma questa devo dire che è fatta veramente bene di un bel colore e con le rifiniture giuste e ve la consiglio vivamente peraltro quasi incredibile che si trovi soltanto ad un costo di 25 dollari e 48 centesimi vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia e che sul sito sono presenti anche sconti progressivi legati alle quantità ora se la maglia vi è piaciuta vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale per avere prossime recensioni in futuro per oggi è tutto ciao io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg quella che vedete è una versione player in taglia large grazie a tutti grazie a tutti